per claudia che ci siamo conosciuti con tuo papà luco in questi momenti qui di fronte a redentore ti faccio ascoltare l'ocarina di esperia in olivo un mio amico giovanni di teo costruttore canto del cuculo l'uccello che annuncia la primavera da parte di peppe con tanti auguri bravo bravo grazie da parte di claudia bravo bravo grazie buone cose grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.